Ok, una battuta sulla partita? È una partita difficile perché comunque quando incontri squadre del genere loro si chiudono, devi stare molto attento a fare il possesso palla, non sempre siamo stati rapidi nel possesso, nei movimenti e per un tempo l'abbiamo gestita noi, anche se nel primo tempo abbiamo rischiato con qualche ripartenza, poi il secondo abbiamo commesso due errori in fase difensiva, siamo stati recuperati due volte e abbiamo rischiato anche di perderla, quindi poi diventa un ternalotto quando non la chiudi nei momenti forti della partita da parte nostra. Ok, due parole sul momento del campionato e sul proseguio. Il momento del campionato è più che rosio, poi quando vinci anche partite del genere si dice che poi sono anche le annate buone, sicuramente buono perché in sei partite questa squadra ha fatto 16 punti e stiamo là, adesso ce la giochiamo, ormai il problema salvezza è risolto e proveremo a dire la nostra fino alla fine senza nessun tipo di problema e puntando a quello che potrebbe essere un sogno. Grazie. Grazie.